Salve amici, come state? Morto Luciano De Crescenzo. Voglio leggervi l'incipit di un suo libro, bello, Pantarei. Non a caso caos è un aggramma di cosa e di caso. Uno, capitolo uno, blob. Guardo una foto di quando avevo 16 anni, ne guardo una d'oggi, Dio come sono cambiato. Poi mi chiedo, ma quando è successo, di notte, mentre dormivo? E come mai il mattino dopo? Non me ne sono accorto. La verità è che cambiamo al ralentatore, attimo dopo attimo, cellula dopo cellula, come nel lancetto e l'orologio che si muovono anche se nessuno le vede muoversi. Pantarei, diceva Eraclito, tutto scorre e con il tutto anche la vita passa, senza che si possa far nulla per trattenerla. Sono voci e immagini che vengono dal passato, si accavallano, si mischiano, si confondono, si spintonano, l'un l'altro ha paura di sparire per sempre in un blob senza capo né coda. Un po' di pazienza, prego. Una alla volta, per carità. E riuscirete tutti a parlare. Grazie. 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 Grazie.